Eccoci, buongiorno a tutti, eccoci nel nostro consueto spazio dedicato alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Buongiorno, bentrovati a tutti. Qui con me c'è Giuseppe, che ringraziamo. Oggi vogliamo parlarvi della comunità Laudato Si Roma 2. Come sapete le comunità Laudato Si nascono in Italia a partire dal 2017 da un'idea del Vescovo Pompili e di Carlo Petrin, il fondatore di Slow Food. Insieme decidono di dar vita, di concretizzare i suggerimenti che il Papa aveva dato due anni prima, nel 2015, nell'enciclica Laudato Si. In Italia nascono varie comunità. Tutte hanno la caratteristica di chiamarsi comunità Laudato Si e poi il nome a fianco. E qui noi abbiamo la signora Narita Lorusso, eccola qui, grazie per aver accettato il nostro invito, che è la referente della comunità Laudato Si Roma 2. A lei vogliamo fare qualche domanda. Siamo curiosi di ascoltare il racconto di questa comunità. Allora, la prima domanda che facciamo è quella di quando è nata la vostra comunità, come è nata la comunità di Roma 2. Buon pomeriggio a tutti, veramente grazie per l'invito. Allora, la domanda che è così specifica avrà una risposta molto precisa, anche perché il giorno di nascita, 5 marzo 2019, è la vigilia del mio compleanno. Quindi è un giorno che non poteva che essere ricordato sempre da me. 5 marzo 2019 eravamo solo, ma è un solo molto relativo, perché non siamo abituati a contarci, a fare discorsi sui numeri. Eravamo sei persone. L'allora referente era Giustino Trincia, oggi diacono permanente e direttore di Caritas Roma. E queste sei persone avevamo uno stesso desiderio, quello di fare qualcosa alla luce della Laudato Si, l'encichica che Papa Francesco nel maggio 2015 aveva donato alla Chiesa e non solo, ma agli uomini di buona volontà. E in particolare decidemmo, con discernimento attento, di scegliere la strada delle comunità Laudato Si, perché le loro regole, le loro basi molto accoglienti e inclusive, ci sembravano quelle un po' più confacenti alla nostra formazione e al desiderio che avevamo di servire la nostra casa comune, i fratelli e il Signore, anche per coloro che fossero credenti, nell'ambito dell'incologia integrale. Che bello, grazie. Qui la regia ci manda delle immagini delle varie attività che fate. Noi siamo contenti di ascoltare questo, perché anche la storia della nostra comunità nasce così per dar voce all'enciclica, scritta per gli uomini di buona volontà e soprattutto, come hai detto tu, ci piaceva questo aspetto trasversale che il Papa sottolinea. Quali sono le attività che fate? Ci incuriosisce perché ogni comunità poi, nell'austera anarchia, può decidere quello che fare, no? Quello da fare. Voi a cosa vi dedicate? Allora, noi abbiamo iniziato in un modo e poi il cammino è stato tracciato camminando. Quindi il nostro atto di fiducia era cominciamo e poi in qualche modo la strada si aprirà davanti a noi. Avete mandato in onda quella foto che ritraeva una targa apposta su un albero. Abbiamo iniziato con le piantumazioni di alberi, dedicandole poi a seconda della nostra sensibilità, ad alcune situazioni, persone. Abbiamo piantate nel nostro quartiere più di una ventina, però anche in altri quartieri della città e anche in altre parti d'Italia, in altre zone d'Italia. Dopo la piantumazione ci siamo accorti che questa cosa ci stava stretta. Allora abbiamo cercato di essere attenti ai segni che il territorio ci offriva. Abbiamo iniziato a fare passeggiate, ma non passeggiate ecologiche to cure. Sempre eventi in cui il grido della terra e il grido dei poveri fossero sempre presenti. Quindi anche la passeggiata sul Tevere non era la semplice occasione per fare due passi assieme, ma per ammirare bellezza, per ascoltare i suoni, ma allo stesso tempo vedere le creature di tutte le specie che lungo il Tevere potevano trovare il proprio habitat, purtroppo anche molti barboni, ex-cacomunitari, e capire in che modo potevamo essere attenti al grido della terra, di quell'ambiente naturale che ci veniva presentato agli occhi, alle orecchie, ma poi anche al cuore, e quindi capire come potevamo noi essere strumento, anche attraverso l'aiuto di testimonianze di persone esperte del settore. E poi abbiamo incominciato a fare formazione nelle scuole, dalle scuole secondarie di primo grado, licei, testimonianze anche in varie università, e altri strumenti. Uno lo ricordiamo con molto piacere perché mi dà l'occasione per aprire un altro settore, se concedete il tempo. E' la mostra delle icone del Cantico delle Creature, ho visto che prima avete mandato una foto. Questa è stata una grazia che abbiamo avuto, noi abbiamo commissionato ad un iconografo, Giuseppe Corbiano, 12 icone, le vedete lì rappresentate, sono invece molto più grandi, 50x70 di legno, e attraverso questo strumento che doniamo gratuitamente in mostra, in esposizione, alle realtà che ce ne fanno richiesta, e non sono solo parrocchie, anzi, sono gallerie d'arte, sono congregazioni religiose, sono anche ambienti pubblici come possono essere delle ville, giardini, piazzali, antistanti degli luoghi d'incontro. E attraverso questo filo d'oro di bellezza, noi diamo la possibilità a chi li accoglie, con creatività, di costruire attorno alla mostra un evento di ecologia integrale. Quindi in qualche modo siamo nella realtà quello che è un po' la nostra autodefinizione, impollinatori di ecologia integrale, cioè cerchiamo di suscitare in altri, perché non ci piace essere soli, non dobbiamo essere soli in questo, a far venire fuori quello che ancora non sanno di essere e di avere, ma che li porta a scoprire come possono impegnarsi nelle buone pratiche di ecologia integrale. Questa immagine che state mandando per noi è molto importante, perché l'impegno per le api è particolare, ci sono alcune persone della comunità che stabilmente ogni anno confezionano le loro bustine con dei semi che noi regaliamo ai passanti di una villa, dipende dalla location che scegliamo anno per anno, e spieghiamo se sono interessati, non sempre lo sono, ma l'incontro lo cerchiamo, la relazione la cerchiamo sempre, perché tutelare la biodiversità, perché difendere le api, perché le api sono importanti per la biodiversità, ma poi quel discorso sulle api ci porta a essere impollinatori appunto di questi principi di ecologia integrale. Poi abbiamo anche adottato degli alveari, sosteniamo gli apicoltori della zona e quindi promuoviamo con lavoro integralmente tutelato, quindi sempre corretto, onesto, registrato, insomma la vendita di miele di questi apicoltori. Sono piccole occasioni, piccole buone pratiche che soprattutto creano relazione fra di noi e con i soggetti anche esterni alla comunità. Questo è sicuramente l'aspetto cui noi teniamo di più. E infatti la terza domanda era proprio su questo, no? Sì, in che modo collaborate appunto con gli enti locali e altre associazioni appunto, sì. Grazie per questo, perché sin dall'inizio, anche se io e anche tutti gli altri, fattori della comunità, non sapevamo come, avevamo il desiderio di impegnarci per una cittadinanza attiva ecologica molto concreta. E abbiamo iniziato con alcuni esercenti del settore. Abbiamo inventato per esempio il tè, il caffè sospeso, ma anche questo legato all'ascolto, alla relazione con i svantaggiati del nostro territorio. E poi abbiamo iniziato a collaborare in una maniera molto creativa e davvero durevole con alcune associazioni che prima di noi facevano questo, magari più impegnandosi nella difesa del verde. E la diversità della formazione che avevamo non ci ha impedito, anzi ci ha arricchito reciprocamente. Quindi per citarne una, Monteverdi Attiva, che sicuramente è molto più brava di noi nel fare tante cose, da qui abbiamo imparato tante cose, sicuramente però non approfondisce alcuni temi come lo facciamo noi. E quindi questo scambio, reciclo, questo invitarli alle nostre celebrazioni, per esempio del Tempio del Creato, questo chiedere testimonianze, è un modo per dire siamo vicini a quelli che sono i segni che nel nostro quartiere ci sono. E poi dicevo delle scuole. Ecco, le scuole sono veramente soprattutto del quartiere e tanti docenti che conosciamo e che ci invitano, ci chiedono di proporre questi percorsi di ecologia integrale che ormai personalizziamo a seconda delle esigenze e dei docenti che ci richiedono dall'IRC, ma anche ai professori di lettere, perché teniamo dei corsi su come la geografia cambia la luce dei cambiamenti climatici, o l'arte, come l'arte può essere denuncia del cambiamento climatico. E poi abbiamo rapporti con associazioni che curano il verde pubblico del nostro quartiere. In particolare voglio citare gli amici di Villa Sciarda, a traverso i quali, per esempio, abbiamo iniziato un'altra bella iniziativa che è quella dell'eco-reading. In un parco noi ci mettiamo per terra con i bambini, ci sono alcune persone, soprattutto maestre della nostra comunità, che leggono libri, storie, fiabe di ecologia integrale. Quindi così, piccole, facciamo la nostra parte come il colibri. Ecco, conoscete tutti sicuramente la storia e quello è il nostro ruolo, con molta semplicità e con molta umiltà, soprattutto. Anna Rita, noi ti ringraziamo veramente, perché ci hai detto tante cose e francamente ci hai anche motivato, hai anche motivato noi, che siamo qui, la comunità di San Giovanni, la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, a continuare a fare quelle piccole cose che, come dice il Papa, permettono di far bollire l'acqua. La fiamma sotto il fuoco è piccola, ma bolle l'acqua e fa tante bolle grandi, così sono le piccole... Io riconosco e fate tante, tante cose molto belle, perché ti seguo da Instagram, ci siamo rincorsi per altre occasioni, avete partecipato anche ai nostri corsi e ve ne siamo grati. Quindi è bello essere in comunione e grazie a te la tecnologia ce lo consente, perché ci permette di essere in rete e di stringere relazioni, che io spero però possano essere più fattive, anche perché io sono pugliese di origine, quindi chissà, prima o poi ricapiterò a San Giovanni Rotondo. Va bene, allora noi ti aspettiamo qui e chissà che veramente non possiamo fare qualcosa insieme, non si sa mai. Come dici tu, la strada si apre camminando, quindi grazie veramente del tempo che ci hai dedicato, sappiamo che l'hai ritagliato abbastanza dai tuoi tanti impegni e ci sentiamo presto. Grazie e alla prossima settimana. Grazie, buona giornata.